Ci siamo? Morassutta? Bene, allora tutti hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 127, contrai 271, la Camera respinge. Allora, adesso ho bisogno dei pareri, quindi chiederei al relatore Berretta di darmi i pareri sull'articolo, gli emendamenti all'articolo 2. Sì, Presidente, tutti i pareri contrari, invito a ritiro pareri contrari su tutti gli emendamenti all'articolo 2. Va bene. Il Governo... Parere conforme al relatore, grazie Presidente. Grazie. Allora, cominciamo. Articolo 2, il 2.51, invito a ritiro parere contrario di Commissione e Governo, se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Micillo. 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 Abrignani. Abrignani. Palazzotto. 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 Bene. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 64, contrari 291, la Camera respinge. Siamo al 2.50, invito a ritiro parere contrario. Nessuno chiede di intervenire la votazione è aperta. Allora, siamo al 2.50, che è identico al 2.2. Quindi hanno votato tutti? Pastorino. Pastorino. Bini. Bini. Ok. Hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 67, contrari 353, la Camera respinge. Adesso emendamento 2.4, invito a ritiro parere contrario. Nessuno intende intervenire, la votazione è aperta. alla fine. Allora. Binetti. Lauricella. Allora, ci siamo? Sì, la votazione è chiusa. Favorevoli 163, contrari 264, la Camera respinge. Allora, adesso metto in votazione l'articolo 2. Dichiaro aperta la votazione. Allora, ci siamo? Tutti hanno votato? La votazione è chiusa. Favorevoli 374, contrari 9, la Camera approva. Allora, articolo 2.